Anche quest'anno il cartellone degli eventi più ricco è quello di Castelli. Si parte il 30 luglio per arrivare al 4 settembre. Qual è il programma, Sindaco? Si inizia il 30 con l'inaugurazione della 52esima edizione della mostra mercato dell'artigianato artistico castellano. Il 31 ci sarà l'inaugurazione della mostra della collezione Giacomini che arricchirà notevolmente il patrimonio già ricco del Museo di Castelli. Ci sono oltre 100 opere. Il 6 di agosto ci sarà la presentazione del romanzo storico del professor Serpentini sulla rivolta di Castelli capeggiata da Francesco Antonio Grue. Quest'anno è il 300esimo anniversario. Il 10 di agosto ci sarà l'inaugurazione della mostra al liceo Francesco Antonio Grue. Praticamente quest'anno potremo riproporre in tutto il suo splendore il terzo cielo che è stato finalmente riportato a Castelli e potrà essere visitato. L'evento sicuramente centrale di questo programma è il Festival della storia dell'arte. Noi quest'anno riproponiamo dopo alcuni anni questo festival che si svilupperà dal 19 fino al 26 d'agosto. La serata principale è quella inaugurale dove ci sarà il critico d'arte e Vittorio Sgarbi. Il programma è molto vario quindi invito tutti a poterlo consultare sia sul sito dell'ente, sui profili che sono quelli social Primavera Castelli, Castelli ed Arte perché ogni giornata c'è qualcosa sicuramente che può essere interessante. In conclusione ringraziare gli enti che hanno, in particolar modo il Consorzio BIM che ci sostiene in questa manifestazione e i consiglieri Marcello Melchiorre e Raffaello Di Simone. Grazie. Grazie.